Ciao a tutti ragazzi, io sono Missaglia, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi spiegherò come suonare Perfect with Sheera, intanto, sigla! Il secondo modo che potete usare per suonare questa canzone potrà essere suonare gli stessi accordi, solo che senza la presenza del capotasso al primo tasto, vi lascio ascoltare un esempio. Ma ora andiamo a vedere gli accordi di questa canzone. Il primo accordo che andremo ad analizzare sarà un so maggiore, formato dall'indice nella quinta corda del secondo tasto. Successivamente vedremo il medio, anulare e mignolo, tutti e tre piazzati nel terzo tasto in scaletta da basso verso l'alto. Mignolo, prima corda, anulare, seconda corda, dito medio, sesta corda, l'ultima, mi basso, tutti e tre nel terzo tasto. Il secondo accordo si tratta di un mi minore, formato dal dito medio, posizionato nella quinta corda del secondo tasto. L'anulare, poco sotto il dito medio, al quarto tasto. Andremo così a formare un mi minore. Il terzo accordo di questa canzone è la minore, formato dall'indice alla seconda corda del primo tasto. Anulare, terza corda del secondo tasto. Questo qui. Dito medio, quarta corda, sempre del secondo tasto. Andremo così a suonare il la minore. Ultimo accordo, ma non meno importante, si tratta di un re maggiore, formato dall'indice alla terza corda del secondo tasto. Anulare, seconda corda del terzo tasto. E infine il dito medio, prima corda del secondo tasto. Andremo così a suonare il re maggiore. Ma attenzione! Re maggiore va suonato dall'alto verso il basso, come tutti gli altri accordi, però a partire dalla quarta corda. Tralasciando, non suonando, la corda di la e la corda di mi basso. Quindi in questo modo. Iniziamo a vedere la parte ritmica di questa canzone. Giù, su, giù, giù. Giù, su, giù, giù. Ora non ci basta che abbinare la parte ritmica della canzone a quella dei accordi che vi ho spiegato prima. Giù, su, giù, giù. 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 Giù, 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 giù. Giù, giù, giù.